Ma che anno magnifico ragazzi, che anno fantastico per il mercato delle criptovalute ragazzi! Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video di Natale, un video in cui io sostanzialmente vi auguro buon Natale a tutti ma poi soprattutto vi dico una parola ragazzi, vi dico grazie. Grazie di cuore per tutto quello che è successo nell'anno 2021, grazie per l'affetto che mi avete dimostrato sul mio canale di YouTube che è esploso in termini di visualizzazioni e nuovi iscritti ragazzi, anche se continuo a portare sul canale delle tematiche estremamente di nicchia molto importanti, quindi analisi che interessano ovviamente a grandi trader, a grandi investitori, il canale ha fatto numeri di record e sono contentissimo e merito sicuramente vostro ragazzi, quindi io volevo intanto dirvi grazie proprio per l'affetto che mi dimostrate per il valore che date anche al canale stesso e a tutti i follower che ci seguono. È stato un anno molto bello ragazzi perché siamo andati su e giù un pochettino sulle montagne russe abbiamo visto come questi mercati possono entusiasmare, abbiamo visto come questi mercati possono darci tantissimo valore e come possono anche in alcuni casi realizzare dei sogni, realizzare delle cose che soltanto pochi pochi anni fa magari per qualcuno di noi erano veramente impossibili. Io penso che i mercati e le cripto abbiano ancora tantissimo da dirci e l'anno 2022 secondo me potrebbe essere un anno scoppiettante ragazzi da una serie di punti di vista, facciamo ancora gli scongiuri perché veramente stiamo aspettando questa ripresa del nuovo ciclo semestrale, questa nuova gamba, questa nuova app lag del bitcoin e poi di conseguenza anche delle altre altcoin, un anno veramente importante al quale seguirà probabilmente un anno ancora più importante in questa fase che lo scorso anno l'ho definito di early majority adoption da parte degli istituzionali di questo mondo, mondo delle criptovalute ma oggi come ogni Natale e come giusto che sia mi travesto un po' da Babbo Natale perché un regalo ve lo faccio ragazzi un regalo di cuore veramente a tutti, volevo fare un giveaway, volevo fare un airdrop chiamiamolo col termine cripto giusto per insomma elargire diciamo un po' di qualche token ragazzi e per fare un regalo a tutta la mia community però 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 io sono strettamente legato a doppio filo con quello che è il concetto della formazione e della voglia di instillarvi nella mente l'importanza di formarvi, di studiare e di creare quello che sono le vostre strategie di investimento, non andare a fare le scommesse, sono belli ogni tanto ci fanno sorridere ci fanno anche divertire però io ho la mia mission, la mission del mio canale è quello di insegnare, insegnare, formare il più possibile su questo mondo e allora questo giveaway si svolgerà con una competizione, si svolgerà con un contest ragazzi un trading contest sul mercato delle cripto che durerà una giornata, mezza giornata perché la notte dobbiamo dormire e faremo una super live in diretta andando a vedere questa gara come si svolge con tutti gli iscritti ci sarà un super premio di 1000 dollari in token ovviamente cripto che sarà messo a disposizione da Trading On, dal team Trading On e donato insomma a qualcuno di voi donato al migliore, a chi vincerà la Trading Competition ragazzi, allora questa competizione di trading si svolgerà dal 27 al 30, stiamo decidendo la giornata ma nel giorno di Natale volevo, della vigilia di Natale volevo darvi questa news estremamente importante, tutti gli aggiornamenti sul regolamento della Trading Competition come bisogna attuare, già vi svelo che sarà probabilmente fatta sul exchange FTX ragazzi e vi lascio anche il link in descrizione per chi di voi ancora non avesse FTX può registrarsi dal link per partecipare alla competizione di trading ma tutti gli aggiornamenti in real time sulla data l'ora di inizio, l'ora di fine e il regolamento saranno pubblicati sul mio canale Telegram che trovate in descrizione, gratuito ovviamente ragazzi penso che faremo anche una chat su Discord per seguire tutti insieme questa competition stiamo mettendo a posto anche quella che è la parte tecnica e informatica perché avremo l'API per andare a seguire come una corsa tutti gli iscritti, tutti i trader che si iscriveranno e gareggeranno tutti insieme è una cosa che ho voluto fare per vedere un po' che cosa significa festeggiare anche in un modo positivo, in un modo divertente quindi giocare, ok sì perché alla fine sarà una competizione di solo un giorno ma con un monte premi veramente molto ghiotto, molto grande ragazzi allora vi lascio i link in descrizione del mio canale Telegram dove avrete tutti gli aggiornamenti sulla competizione per chi di voi volesse partecipare sarà comunque pubblicata live su YouTube faremo una live lunghissima di tutta la giornata ragazzi quindi poi sarà possibile anche seguirla eccetera ci stiamo organizzando, questo è il mio regalo di Natale 1000 dollari in token airdroppati di premio e bonus a chi è più bravo a chi sa fare più trading e in un solo giorno potremmo anche dire a chi un po' lo aiuterà alla fortuna va bene ragazzi ma non potevo lasciarvi senza un briefing di Bitcoin di quello che sta facendo perché ha dato i primi segnali long e nuovamente mi ha fatto entrare su questo trend ragazzi con tutti i miei trading system siamo di nuovo full long incrociamo le dita perché stiamo aspettando questo semestrale scadenza perfetta il 20 dicembre troppo presto quindi proprio un orologio svizzero mi aspettavo qualche giornino in più era dal 20 in poi invece proprio il 20 fa questo minimo e spara andiamo a vedere questo grafico e andiamo a vedere un po' vi dico un po' solo il mio punto di vista quindi non facciamo analisi oggi perché è la vigilia di Natale e questo è un video solo esclusivamente per salutarvi e darvi i miei auguri ma una cosetta ve la faccio vedere allora ragazzi questo è il grafico di Bitcoin sulla time frame quickly e la bellezza di questo rimbalzo è proprio legata a un discorso molto semplice ragazzi questo livello che vedete qui intorno c'è un livello spartiacque fra una fase di bassista ed una nuova leg al rialzo intorno ai 54 mila dollari per intenderci questa zona qui indicherebbe una settimana diciamo quindi la prossima magari dovesse arrivare o anche questa all'interno di questa zona io mi aspetto un recupero entro fine mese ci sono poi delle cose che vi farò vedere nei prossimi video perché è importantissimo se ci mettiamo su entro fine mese una cosa del genere aprirebbe le strade per andare a fare il testing nuovamente di questa zona di resistenza ma questa zona di resistenza è già stata toccata da Bitcoin una volta durante la prima up lag quella in Super Bull Run ragazzi scusate di febbraio-marzo poi qui qualche settimana fa la terza che significa la terza? Significa che sarebbe un triplo massimo ragazzi i tripli massimi per quanto siano comunque validi sono anche molto difficili da verificarsi in termini statistici questo tecnicamente potrebbe anche indicarci che se il mercato prova a rompere quel livello questa volta potrebbe anche riuscirci quindi il livello di 54 in questo momento con una close settimanale magari dovesse farla chiudendoci sopra verso la fine dell'anno proprio in questi sei giorni che restano sarebbe estremamente importante per dare il là a questo poi touch per la terza volta dei massimi storici di Bitcoin perché ragazzi un break di questi livelli poi creerà sicuramente una fase di Bull Run una fase di Bull Run che potrebbe in effetti essere concomitante con il nuovo ciclo semestrale che ci stiamo aspettando e poi i massimi storici della fase dell'alving del ciclo dell'alving di Bitcoin allora questo è quello che secondo me potrebbe aspettarci se riusciamo a breccare questi livelli in questi sei giorni questa è una piccola chicca ragazzi poi ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni le altcoin probabilmente seguiranno ma io sono un po' dell'idea che Bitcoin deve fare un po' i compiti a casa da solo in questo caso ci sono alcune altcoin che hanno iniziato delle fasi discendenti e potrebbe essere rischioso perché hanno il classico atteggiamento di fine Bull Run per quanto riguarda alcune alt che sono veramente anche molto molto importanti magari le vedremo nelle prossime settimane ma questa è la chicca ragazzi allora buon Natale a tutti buon Natale a tutti i trader di criptovalute a tutti i trader generali a tutti quelli che amano il finance amano l'investing e soprattutto questo mondo nuovo che stiamo cercando di creare ragazzi il mio regalo lo avete capito per quanto riguarda la formazione trading competition che adesso bombarderemo un po' i miei canali in maniera tale da pubblicizzare tutto quanto è aperta a tutti ovviamente ragazzi vediamo chi è più bravo vediamo chi è più forte cercheremo di fare le cose in grande se siete poi migliaia diventa un problema da gestire con i flussi ma ce la faremo perché abbiamo un team di informatici che ci aiuterà auguri ragazzi divertitevi questa sera non pensate al lavoro non pensate all'ecrito pensate alle cose più importanti della vita ogni tanto ci vuole tanti auguri buon Natale a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti